L'errore che noi possiamo commettere, perché noi condanniamo il nostro paese, lo condanniamo, lo dico ai ragazzi, a voi giovani che molte volte purtroppo travolti da una superficialità che ci circonda, è facile esprimere dei giudizi sommari ed è un errore, è un errore esprimere quei giudizi sommari perché poi voi stessi un domani potrete essere vittime di quel giudizio sommario, Mari dopo il fatto sacrifici, dopo esservi impegnati per raggiungere un obiettivo della vostra vita professionale ed essere equiparati poi a chi Mari non ha mai fatto nulla nella vita per raggiungere quello stesso ruolo, non penso che vi faccia piacere, vi farà piacere. Ecco perché vi dico, prima di esprimere dei giudizi sappiate sempre, fate dei distinguo in ogni categoria, ci sono quelli che lo fanno con amore, passione, serietà e ci sono quelli che lo fanno per altri motivi. Quindi ecco io mi auguro e spero che un po' la giornata di oggi possa servire anche a lasciarvi qualche messaggio da questo punto di vista e i giornalisti che sono qui, che noi premiamo e che sono stati anno per anno protagonisti dell'Orchide d'Agendo rappresentano esattamente questo messaggio. C'è persone che oggi se hanno un riconoscimento ce l'hanno perché hanno fatto sacrifici, perché hanno creduto in un sogno, perché se oggi rappresentano un ruolo, se oggi Rino Genovese è conosciuto da tutti, apprezzato e ammirato da tutti, non lo è perché qualcuno gli ha detto prego, accomodati e diventa personaggio pubblico, lo è perché ha fatto una gavetta, ha fatto una dura gavetta, ha fatto tanti sacrifici, credeva in un sogno e oggi realizza un sogno e addirittura va oltre, facendo delle scelte anche di territorio che magari potevano professionalmente anche dargli più vetrine. Questo è il giornalismo che noi oggi premiamo, il giornalismo che noi oggi vogliamo, la professione perché poi quello del giornalismo si deve estendere un po' a tutte le professioni, questo è il modello di professionista che noi oggi vogliamo ed è esattamente il segnale ed il messaggio che deve venire fuori dal premio giornalistico Orchide d'Agendo. Grazie.